E' alta l'attenzione del Comune dell'Aquila sugli effetti del rogo che a fine ottobre ha distrutto lo stabilimento di Bazzano della municipalizzata SM, causando danni ingenti a locali, mezzi e strumentazioni stimati in circa 10 milioni di euro. Il punto della situazione tra stato dell'arte e prospettiva è stato fatto nel corso di una seduta della prima commissione comunale bilancio. Alla tavolo dei lavori presieduti da Livio Vittorini, oltre ai rappresentanti dell'amministrazione civica, anche quelli della stessa municipalizzata SM, i lavoratori che sono stati ringraziati per il lavoro fatto in questo periodo difficile e i sindacati. In corso di prima commissione c'è stata anzitutto la richiesta di fare chiarezza sull'evento, è stato poi fatto il punto sull'impegno preso dalla regione Abruzzo, con un milione di euro che sarà destinato ad ASM. E poi due snodi fondamentali che saranno in capo al Comune dell'Aquila per garantire al meglio il futuro della municipalizzata SM. Dopo due settimane ho ritenuto opportuno convocare al tavolo tanto l'amministrazione attiva, la nostra giunta comunale, quanto ASM, nonché i rappresentanti dei lavoratori, per andare a fare ulteriore chiarezza e contezza su quelli che sono i danni, danni che purtroppo sono ingenti e importanti, nel ragione di almeno 10 milioni di euro, ma soprattutto capire quelle che sono le azioni che ASM, il Comune dell'Aquila, ma anche enti superiori tipo la regione Abruzzo, che a cui del Presidente Marsilio ha già dato la disponibilità, a breve dovremmo ricevere il milione di euro impegnato alla regione Abruzzo per garantire più elasticità di cassa per la nostra partecipata e poi riprogrammare uno o due passaggi fondamentali per consentire una piena ripartenza delle attività che consente anche ASM di recuperare marginalità economica di alcune attività che per ora sono sospese. Sarà importante e per questo nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, saranno avviati dei controlli sulla struttura legata alla porzione di edificio dove erano collocati gli uffici direzionali di ASM per tornare pian piano a un'attività ordinaria. Ha parlato di due passaggi fondamentali, uno lo ha già un po' dettagliato, l'altro passaggio quale sarà Presidente? Il secondo passaggio è quello di andare ad individuare risorse importanti, parliamo di cifre importanti anche per un Comune virtuoso e importante come il nostro e programmare risorse affinché ad esempio la piattaforma che è andata distrutta, con cui ASM andava a rilavorare i rifiuti della plastica che consentiva di ottenere importanti marginalità in termini economiche possono essere pianificate e prontamente risolte.